Un nuovo impianto produttivo a Grugliasco, l'arrivo della trazione integrale sulla nuova quattroporte e molto altro ancora. Scopriamo tutti i dettagli dell'offensiva Maserati con un gradito ospite. Negli studi di Safe Drive l'amico Luca Dalmonte, Maserati, una Maserati che comincia la stagione alla grande. Innanzitutto grazie Luca di essere con noi, buonasera. Buonasera, piacere mio ovviamente. Un inizio di stagione, dicevamo, molto importante per il marchio che rappresenti. Tante, tante novità, già viste alcune al Salone di Detroit il mese scorso. Adesso c'è Ginevra, dunque c'è tanto da lavorare. Sì, tantissimo. Questo va molto bene. L'anno è iniziato alla grande, i primi giorni di gennaio a Detroit, con la presentazione mondiale della nuova quattroporte, tanto nella versione V8 quanto in quella V6. e proseguirà a Ginevra dove abbiamo una novità a livello di Gran Turismo, una versione ancora un pochino più sportiva del nostro coupé e ovviamente il debutto europeo della nuova quattroporte. Ecco, quattroporte che tutti hanno chiamato, forse un po' rioneamente, la piccola Maserati. In realtà, numeri alla mano, centimetri e prestazioni, è sempre una signora Maserati. Sì, beh, la nuova quattroporte è 5,26 metri di lunghezza, quindi è tutt'altro che piccola. Nei mesi scorsi, ma la presenteremo nei mesi prossimi, quella che è stata chiamata la piccola Maserati è la Ghibli, che di fatto poi piccola non è perché è di poco inferiore come metratura alla quattroporte precedente, quindi poco sotto i 5 metri. Le novità, se vogliamo, più curiose, più innovative di Maserati sono sotto il cofano. Ho letto di un motore diesel e anche di una trazione integrale. Sì, per la prima volta in tempi recenti offriamo un modello con due motori diversi, un V8 e un V6, e sul V6 avremo anche la trazione integrale, che per Maserati è una novità assoluta. Da dove arrivano questi motori e da dove arriva la trasmissione? È declinata da qualche altra vettura del gruppo? No, allora comincio dalla seconda domanda. Tutto quello che vedrete, perché tu proverai, i nostri potenziali clienti, i futuri clienti, troveranno sulla macchina, è tutto sviluppato in house da Maserati. I motori invece sono progettati dai nostri ingegneri insieme a quelli Ferrari e continuano ad essere prodotti costruiti a Maranello all'interno della fabbrica Ferrari. Ecco Luca, a Ginevra nel tuo stand non abbiamo visto la nuova Ghibli. Magari riesci a darci qualche curiosità, qualche anteprima in merito? Sì, qualcosina posso dire, anche se non possiamo ancora svelare tutto. Ginevra chiaramente è stata per noi il debutto europeo della nuova Quattroporte, il debutto mondiale della nuova Gran Turismo MC stradale a quattro posti. Per quanto riguarda la Ghibli, il debutto è semplicemente questione oramai di qualche settimana. Non posso ancora dirti esattamente dove, ma se pensi ai saloni che ci sono da qua alle ferie estive, probabilmente riesci a farti un'idea di dove la debutteremo. Il mercato che per noi ovviamente è molto molto importante, è sempre in crescita. Quello che posso dire è che anche in Italia la Ghibli comunque arriverà entro l'estate. Perciò ambizioni, numeri, obiettivi importanti. L'azienda Maserati crede nella produzione in Italia e sempre notizia delle ultime settimane, un raddoppio dell'attività produttiva. Assolutamente sì, direi che siamo lanciati con i piedi ben piantati per terra perché le nostre radici ci insegnano a non fare mai voli pindarici. Però l'idea è proprio quella di arrivare da qui al 2015 a 50.000 vetture prodotte e vendute all'anno, partendo da una base del 2012 che è circa 6.300 unità. e ovviamente però bisogna andare a leggere in questi numeri, nel senso che non è semplicemente una crescita data, chiaramente, dalla gamma attuale. È data da tutta una serie di modelli nuovi, quindi già la quattroporte, avendo la trazione integrale, avendo un V8, un V6, chiaramente già da dei numeri diversi, potenziali di crescita. Poi il Ghibli e il Levante, chiaramente, vanno in segmenti del mercato diversi, più ampi, nei quali faremo i volumi. Tiela Coupé, che abbiamo lasciato un attimo a parte, rimane il vostro cavallo di battaglia nelle competizioni. Sarete ancora presenti con la Monomarca anche nel 2013? Assolutamente sì. Nel 2013 sarà la quarta stagione del Trofeo Maserati, nuova edizione. Saranno sei le gare che faremo, tre in Europa, tre ex Europa. Innanzitutto partiremo a metà aprile con il test a misano adriatico e poi la prima gara sarà a Pol Ricard alla fine di aprile. Poi andremo a Silverstone, al Nürburgring e poi attraverseremo gli oceani per andare, un po' come Soldini, per andare a Sonoma, in California, per andare a Shanghai, in Cina, e per finire ad Abu Dhabi a metà dicembre. E poi vi siete messi a fare le barche e vincete anche con le barche. Vinciamo con le barche pur senza esserci messi a farle, perché le barche non sono nostre. La barca è il 470 dell'ingegnere John Elkan, guidata da Soldini già l'anno scorso, sponsorizzata da noi insieme ad altri partner. Si chiama Maserati, già l'anno scorso ha solcato gli oceani e quest'anno ha fatto il periplo delle Americhe, doppiando Capo Horn, stabilendo il nuovo record, per alto di dieci giorni più veloce del vecchio, sulla rotta dell'oro, come viene chiamata, da New York a San Francisco. Grazie ancora Luca, che dire, buon lavoro per un anno che mi sembra decisamente intenso e ricco di impegni. Assolutamente sì, grazie a te e grazie a voi.